ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video qui big ticket no la mascherina la mascherina no ma la maglia decisamente si ragazzi green release machine non è la prima volta che vi faccio vedere questa maglia in live oggi parliamo come avete visto dal titolo di qualità perché ve lo dirò dopo l'intro ciao ragazzoni qui big ticket ancora bentornati in un nuovo video sul mio canale oggi un video un po diverso dal solito voglio ringraziarvi perché da oggi inizia un nuovo capitolo un nuovo capitolo nel segno della qualità ho comprato questa roba qui non sono un marchettaro ragazzi nessun cash niente di niente nessun soldo mi arriva per dirvi questa cosa questa roba qui elgato hd 60 plus ho deciso di fare un salto un salto di livello perché era arrivato il momento di darvi qualcosa in più dal punto di vista della qualità volevo che le mie live i miei video su youtube avessero una qualità maggiore tutto quello che io faccio ve l'ho sempre detto è sempre per cercare di darvi il contenuto migliore possibile ovviamente non sempre tutto ciò si riesce a fare perché comunque si fanno degli errori anche dal punto di vista mio della scelta di un contenuto della realizzazione di un video il tempo a volte non è tanto quindi si finisce per andare un po di fretta e fare dei video che non non rispecchiano al top quello che è il mio pensiero però appunto sono sicuro che voi capiate la difficoltà comunque di rimanere sempre ad alti livelli ma nella speranza comunque di rimanere più possibile a questi alti livelli ho deciso appunto di fare questo acquisto era tanto tempo che ci pensavo sono partito da lontanissimo da uno streaming riprendendo dal remoto l'xbox e quindi una qualità che era assolutamente niente di che poi con un elgato vecchia versione adesso finalmente questo salto di qualità ma in questo video voglio ringraziarvi ringraziarvi perché se io posso fare queste cose è grazie al vostro supporto sono contentissimo che molti di voi l'hanno capito voglio ringraziare dal primo all'ultimo chiunque guarda i miei video chiunque viene nelle mie live chiunque le guarda chiunque scrive anche se non tutti quelli che guardano scrivono infatti vi invito a essere partecipi il più possibile in chat perché davvero si è creato un gran gruppo e ci divertiamo tutti insieme voglio ringraziare ancor di più anche se sembra brutto perché ringrazio tutti allo stesso modo ma lasciatemi passare un pizzico di più chiunque supporta in modo attivo quindi con le sub su twitch con le donazioni con i beats con questo nuovo metodo che vi sto facendo vedere anche adesso che è il merch qui la mascherina che prima avevo non si legge benissimo però eccola qui come la maglietta davvero mi sono sono tutte grafiche che chiaramente ho ripreso dal gioco ormai sono due anni che c'è questa maglietta in game al parco ovviamente l'ho rifatta da capo al computer non ho copiato e incollato l'ho rielaborata e cercando di mantenere una buona risoluzione devo dire che questo merch è venuto davvero bene la maglia è molto molto carina la mascherina anche è venuta bene ci sono tanti altri articoli se vi interessano c'è il lo store sotto al video avete anche il link su su twitch quindi davvero se volete supportare il mio canale questo può essere anche un bel metodo dal momento che oltre a supportare me e la mia attività di content creator andate anche a ricevere un oggetto comunque caratteristico che comunque in giro fa fa la sua figura devo dire quindi davvero grazie a chiunque supporta il mio canale senza di voi davvero non potrei aver fatto tutte queste cose quindi questa del legato quindi di di una qualità migliore delle live e dei video è un qualcosa che vi dovevo io ho sempre detto che qualsiasi introito dal punto di vista del canale youtube del canale twitch avrei voluto reinvestirlo per aumentare la qualità sono ancora di questo avviso ve l'ho dimostrato è un acquisto importante quello che ho fatto sarà un acquisto importante quello della nuova console in futuro pensavo anche di cambiare webcam di fare un upgrade anche dal punto di vista del microfono tante cose che vorrei fare la postazione chi più ne ha più ne metta sono tutte cose che sto facendo pian piano grazie al vostro aiuto fare soldi da youtube da twitch è l'ultimo dei miei pensieri in quanto comunque ho fortunatamente un buon lavoro che mi mantiene quindi quello che faccio non lo faccio per avere del cash indietro non è assolutamente quello che mi interessa ma appunto voglio darvi un'esperienza sempre migliore in un periodo in cui la tv fa schifo in cui ci avviciniamo all'inverno quindi staremo molto spesso a casa io voglio che la vostra esperienza davanti ai miei video davanti alle mie live sia davvero di alto livello ed è per questo che decido di fare questi acquisti niente volevo appunto in questo video ringraziarvi farvi vedere questo nuovo acquisto del quale sono davvero super eccitato avrete anche visto nella scorsa live come aumentata la qualità lo scorso video su youtube entrambi registrati in fretta e furia con questo nuovo hardware devo ancora capirne i segreti cercare di migliorare ancora di più dove possibile la qualità ma sono davvero contentissimo detto questo invito chiunque sia qui per la prima volta di iscriversi al canale lasciare un like anche questo è il supporto di cui ho bisogno io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo peace